Quella di cui voglio parlarvi oggi è una situazione che secondo me dovrebbe interessare sia i tifosi genoani che i tifosi sandoriani Quindi invito tutti i tifosi delle squadre genovesi a seguire questo video, condividerlo, mettere like, se volete anche iscrivervi al canale perché come sapete io non ho rivalità se non sfotto educazione e rispetto sempre E ovviamente nei 90 minuti che ci vedranno se e quando ci vedranno contro Ma in questo caso vi chiedo una condivisione, un like perché proprio voglio parlarvi di un argomento che interessa veramente tutti Interessa veramente tutti perché si parla del nostro stadio, si parla dello stadio in cui per 19 gare a stagione più Coppa Italia Comunque noi siamo protagonisti sugli spalti e le nostre squadre sono protagoniste in campo Stiamo parlando dello stadio che fa da biglietto da visita alle nostre tifoserie e alle nostre squadre per chi arriva da fuori E stiamo parlando di uno stadio che secondo un articolo di Damiano Basso del secolo XIX Oggi quando sto registrando il 22 luglio, vigilia del mio compleanno, ma poco questo cambia Non versa nelle condizioni adatte a una squadra professionistica, a una squadra di Serie A o di Serie B che sia Non versa in condizioni adatte per giocare a calcio Non versa in condizioni adatte per ospitare un pubblico Ma la cosa più preoccupante di tutto questo non è la partita che si andrà a affrontare La prima partita che sia del Genoa o che sia della Sampdoria in questa squadra del Genoa in Coppa Italia Ma quello che mi risulta più preoccupante, che mi crea più nervoso È il fatto che da maggio al 22 di luglio, cioè da metà maggio, quando è che abbiamo finito il campionato A 22 di luglio, siamo ancora in questa condizione di scarsa manutenzione sul campo iniziata in ritardo E di manutenzione quasi assente all'interno dello stadio, da tutti i punti di vista quanto leggo Questo non è accettabile Damiano Basso del secolo ha fatto un ottimo lavoro nel segnalare questa cosa E io spero adesso che qualunque siano la divisione delle colpe da dare Perché non lo so, so solo che Damiano Basso parla di un milione e qualcosa di debiti Nei confronti dei fornitori da parte delle due società Ma chiunque abbia più colpe o chi meno Tutti si mettono una mano sulla coscienza, fornitori compresi Visto che saranno anche loro fornitori dello stadio E dicano, risolviamo il problema dell'oggi Cioè quello più urgente Quello che ci deve permettere il 9 di agosto di avere uno stadio Quanto meno decente da presentare ai tifosi della Reggiana E mi sembra il 10 e l'11 da presentare ai tifosi del Como E nella settimana successiva da presentare ai tifosi dell'Inter Perché ci sarà già una Inter Ok? È questo l'obiettivo È questo l'obiettivo Poi ci mettiamo di nuovo a un tavolo E parliamo di tutto quello che sono i problemi Sicuramente quella cosa la lascio a voi Non credo di poter essere tanto influente O tanto esperto della cosa Da poter dire cosa dovete fare dopo Ma io vi chiedo E mi sto riferendo direttamente ai responsabili Reali della situazione Vi chiedo Di agire Nel minor Tempo possibile Nel minor Tempo possibile Perché è questo che serve oggi È questo che serve oggi Perché serve avere uno stadio pronto per il 9 e 11 O 10 Non ricordo Agosto Il resto avrete tempo per risolverlo Visto che tanto sono problemi Che vi portate avanti Già da tempo Quello che chiedo invece Ai tifosi di Gena e Sampdoria Anche alle tifosie organizzate all'Ultra Che in questo momento so Non essere in ottimi rapporti È di sotterrare Per un secondo Le cosiddette asce di guerra Unirci E chiedere a gran voce questo Perché ne va Anche del nostro Modo di fuire Lo stadio Di tutte e due le società Quindi Non facciamo divisione su questo Uniamoci Con contenuti vostri Va benissimo Condividendo questo contenuto Ancora meglio per me Vi ringrazio Ma va bene In tutti i modi lo vogliate fare Ma uniamoci in questo Perché è una situazione inaccettabile Sia per i tempi Perché ormai sono tempi veramente risicati E non dovevamo arrivare a questa situazione Sia Per il danno di immagine Che rischiamo di avere E il danno che rischiene di avere Anche i nostri giocatori Se il campo non fosse In una corretta manutenzione Quindi uniamoci tutti Speriamo nel meglio Per questa situazione Un saluto a tutti Da vostro genono tipico Alla prossima Ciao Grazie a tutti i nostri giocatori Grazie a tutti i nostri giocatori Grazie a tutti i nostri giocatori Grazie a tutti i nostri giocatori